Ben trovati amici di Fano TV, ben trovati alla Rassegna Stampa. Oggi è martedì 31 gennaio 2023 e siamo pronti alla lettura dei giornali, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Passiamo come sempre con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Oggi è la festa di San Giovanni Bosco, il santo dei ragazzi, dei ragazzi abbandonati, dei ragazzi disadattati, a cui offerse un rifugio sia per l'anima che per il corpo. Per le fanciulle istituì le suore di Maria Ausiliatrice, visse operando in carità nella Torino del XIX secolo. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. E vediamo che rimane il bel tempo su tutta la regione Marche. Da ieri il cielo è tornato sereno. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest. Al pomeriggio moderati da nord-ovest. Il mare è poco mosso, le temperature oscilleranno tra i 2 e i 9 gradi. E il sole sorge questa mattina alle 7.26 e tramonterà alle 17.17. Ed ora apriamo i giornali a partire dal resto del Carlino. La pagina di Fano vede innanzitutto l'apertura, eccola qua, dedicata alla ciclovia del Metauro. Ciclovia, primo round agli espropriati. Parte la sperimentazione su Via Galilei. Cosa vuol dire primo round agli espropriati? Significa che le proteste, le segnalazioni, le istanze presentate all'amministrazione comunale per una deviazione del percorso originario hanno tenuto successo. Dopo le segnalazioni dei residenti di Via Vasari, l'amministrazione ha deciso di modificare il percorso. Nella settimana tra il 2 da domani, anzi dopo domani, dal 2 al 9 febbraio si valuterà l'impatto del traffico sul nuovo tragetto che è ipotizzato. Qual è il cambiamento? Il cambiamento è quello di togliere Via Vasari dal percorso della ciclovia del Metauro, privilegiando il passaggio della ciclabile su Via Galileo-Galilei. Siamo sempre a Sant'Orso. Questo è il senso della sperimentazione che l'amministrazione comunale ha deciso di effettuare proprio lungo Via Galilei, nella settimana appunto dal 2 al 9 febbraio. Sarà attuato un senso unico alternato, senza semafero, ma con l'utilizzo del New Jersey a partire dai civici 65 e 68. A tale decisione, l'amministrazione comunale è arrivata dopo le segnalazioni, le insistenze dei residenti di Via Vasari, che ritengono la loro strada inidonea appunto a sopportare il traffico di una ciclovia turistica. Quindi un cambiamento sostanziale. Cristian Bacciaglia, lo vediamo qui nella fotografia, è uno dei residenti di Via Vasari, che ha presentato le osservazioni che poi sono state accolte. Ed ora parliamo della variante di Gimarra, anzi ne parliamo ancora, dopo aver speso, steso i giornali Fiumi di Inchiostro. La variante di Gimarra ci è costata già 441 mila euro, senza che nessun lavoro esecutivo sia stato ancora realizzato. Hanno calcolato questa cifra i componenti responsabili del Movimento 5 Stelle. Queste le singole voci di spese, dunque per un totale di 441 mila euro, circa poco meno di mezzo milione di euro già spesi. Sono quei 25 milioni che l'amministrazione comunale intende investire, sul territorio, di cui i 20, lo ricordiamo, fanno parte di quel contributo che la Regione si è impegnata a devolvere al Comune di Fano, mentre poco più di 5 milioni saranno, è l'aggiunta che l'amministrazione comunale farà con le risorse del proprio bilancio. Ebbene, diamo una verifica, diamo una parcellizzazione a questa cifra globale. Le voci di spesa sono queste, 24 mila 700 euro per l'incarico professionale all'architetto Veronica Balsomini, a cui vanno aggiunto 3 mila 122 euro per la realizzazione di un rendering della nuova strada, una di quelle immagini che fanno vedere appunto come la nuova strada inciderà sul territorio. 49 mila 483 euro sono stati dati alla società Sintagma per l'aggiornamento dello studio di prefattibilità e la predisposizione degli elaborati della gara di progettazione. 219 mila 343 euro al raggruppamento Abacus Archeotec Ambiente per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica e poi ancora 20 mila 301 alla Conteco CEC per il servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica. 6 mila 820 euro come compenso ai commissari della gara di appalto per la progettazione, 4 mila 178 per la pubblicazione sui giornali dell'avviso pubblico degli espropri ai privati, 106 mila e 700 al raggruppamento Abacus Archeotec e Ambiente in aggiunta a quelli che già sono stati dati per l'affidamento dei servizi opzionali dell'appalto di progettazione. 6 mila 978 sempre alla Conteco CEC per la verifica preventiva in base al codice dei contratti. Guardate quante fasi ha questo iter amministrativo molto molto complesso che dovrebbe giungere a soluzione entro il 31 giugno di quest'anno. Un 31 giugno sono sei mesi che l'amministrazione comunale dall'inizio dell'anno ha tempo per realizzare l'opera, altrimenti perderà il finanziamento. Sono i calcoli che fa 5 Stelle, ovviamente in maniera problematica perché insomma il partito è contrario alla realizzazione dell'opera. Ed ora diamo un'occhiata invece all'apertura della seconda pagina del resto del Carlino. Cent'anni fa moriva Don Masetti, l'opera Don Orione lo celebra. Il direttore Giorgi, oltre a un convegno, dice vogliamo riprendere i suoi scritti e quelli a lui dedicati da Alberto Berardi, l'allievo di Don Masetti. Il sogno da realizzare è completare il progetto del santuario di Don Bosco, ispiratore del sacerdote. Ebbene il centenario della morte di Don Masetti proietta l'opera Don Orione di Fano veramente verso il futuro. Un futuro in cui la benemerita istituzione cittadina che si ispira all'insegnamento di San Luigi Bosco di cui oggi appunto si celebra la festa vuole aprirsi sempre più alla città completando il progetto che mai è stato completato del suo santuario, un punto di riferimento esteriore per quanto riguarda tutto l'insegnamento di Don Bosco e anche di Don Masetti per quanto riguarda l'educazione dei giovani. In programma per la prospettiva del centenario è evidenziato Giorgi e la ricorrenza dunque si comincia subito con la festa di Don Bosco e quindi ci saranno delle cerimonie religiose che lo ricordano. Alle 18.30 verrà celebrata nel santuario una messa a cui saranno presenti i parroci del territorio e tutta la comunità religiosa a cui seguirà poi anche un buffet per fare festa, per fare insomma conciliazione. Questo è l'avvio. Poi ci saranno tante altre iniziative tante cose che abbiamo in mente ha detto Giorgi pensiamo di riprendere le diverse pubblicazioni che Don Masetti era un prete colto ha fatto per i giovani ma anche gli scritti che il compianto Alberto Berardi ha pubblicato negli anni 70. Faremo un convegno e tante altre iniziative per ricordare questa opera che Don Masetti Don Orione e Don Bosco hanno fatto anche nel nostro territorio. E a proposito di anniversari vediamo che il coro polifonico malatestiano invece festeggia nel 2023 appunto quest'anno la cinquantesima edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano e sarà una celebrazione che durerà un po' tutto l'anno e sarà una celebrazione con tante contaminazioni di iniziative che già si svolgono nel territorio a partire dal Carnevale. Il 20 febbraio prossimo infatti si terrà un concerto dedicato al Carnevale. Si tratta del Festino della Sera del Giovedigrasso Avanti Cena un brano musicale composto da Adriano Banchieri Venezia 1608 quindi una musica profana dovrebbe essere allegra dovrebbe esprimere tutto il pensiero l'atmosfera del Carnevale un Carnevale colto come quello veneziano che integrato con quello un pochino più popolare del Carnevale di Fano dovrebbe avere una certa suggestione. Ma ci sono poi tante tante altre iniziative che il coro polifonico malatestiano farà durante l'anno per esempio martedì 7 marzo nella Basilica di San Paterniano ospiterà il Sant'Anna Youth Choir di Copenaghen un coro misto giovanissimo formato da 65 ragazzini e poi ci sarà l'appuntamento inserito nella rassegna della Cappella Musicale del Duomo ancora ancora e poi ancora dunque se ben mi ricordo ci sarà anche la rievocazione del del concerto tratto da Maria risorta al Porto finché alla fine di agosto inizio di settembre ci sarà la cinquantesima edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano addirittura con un culmine di una giornata dedicata a 50 cori che canteranno nella nostra città si spargeranno un po' nelle strade canteranno nelle chiese sarà veramente un summa della polifonia nella città di Fano ed un concerto sarà interamente dedicato a Zanchetti nel centenario della sua nascita giriamo pagina e vediamo la pagina di un alcolista storia di Claudio all'inferno e ritorno così ho vinto la schiavitù dell'alco si tratta di Claudio Bacchiocchi 61 anni confessa apertamente sono un alcolista però sono sobrio da 8 anni ho vinto la mia battaglia una battaglia non facile una battaglia difficile che ha avuto momenti di disperazione ma anche di rinascita aveva 45 anni quando ho cominciato a bere uscivo dal lavoro confessa e andavo al bar con gli amici poi è diventata una dipendenza finché mio figlio mi ha detto qualcosa che non scorderò mai più è stato quell'input quell'inizio che gli ha fatto cambiare completamente vita babbo è ora che ti vai a curare non voglio più vederti così e per me vi giuro è stata una scossa ha dichiarato Claudio Bacchiocchi ebbene in questo articolo c'è tutto il calvario di un uomo che è precipitato in una fossa da cui era difficile poi risalire ma lui gliel'ha fatta ebbè un esempio da tutti coloro che in questo momento sono schiavi di dipendenze dipendenze non solo di alcol dipendenze anche di altro genere di tipo droga e di altre droghe che non sono tossicodipendenze ma sono dipendenze di altro genere veniamo ad Urbino sanità contratto prorogato ai lavori precari ai lavoratori precari l'assessore regionale Saltamartini ha dato una prima risposta ad una trentina di figure a rischio licenziamento Elisabetta Foschi dichiara situazione da risolvere ebbene è stato prorogato il contratto fino al 31 luglio per i lavoratori interinali della Aste di Pesaro Urbino l'azienda sanitaria territoriale ex area vasta 1 a comunicarlo è stato proprio l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini il quale ha precisato che successivamente verranno indette procedure selettive la decisione è stata assunta di comune intesa con la direzione continua Saltamartini rispondendo alle preoccupazioni emerse a seguito del cambio di vertice dell'azienda sanitaria quella ospedaliera appunto in un'azienda sanitaria locale che si occupa anche del territorio per quanto riguarda la frana a Mazzaferro ora c'è internet è stato ripristinato a Mazzaferro e a Montesofio sono tornati acqua e internet dopo la sospensione causata dal crollo di un pezzo di muro di contenimento che affianca la statale 73 bis ed ora parliamo anche di temperatura di eventi meteorologi caldo estremo e record i dati sorprendono vediamo qui l'articolo il 27 giugno del 2022 con 39,4 gradi e il 4 agosto del 2017 sono stati i giorni più estremi dal 1850 ad oggi il calore medio dell'inverno è dunque presso di noi come a Venezia Udine e Verona che nessuno ha mai decantato come luoghi di troppo rigido clima ebbene è una citazione questa di Alessandro Serpieri tratto da studi sulle temperature invernali nel clima di Urbino composta nel addirittura 1863 quindi il caldo record del 2022 non è certo una rarità vediamo qualche notizia di Pesaro sul resto del Carlino vediamo la prima pagina cittadella del basket a tappe forzate vedremo poi perché ecco gli studenti giornalisti cronisti in classe boom di adesioni ebbene è il miraggio della professione dico miraggio della professione da giornalista antiracora tanti giovani anche se devo dire che ormai il mondo dell'informazione sta letteralmente cambiando è un'informazione più veloce più rapida più esaustiva rispetto al passato veniamo ai lavori pubblici lavori strada chiusa case bruciate protestano i residenti siamo isolati ebbene per compiere i lavori per la strada di case bruciate si è dovuta chiudere appunto la strada e questo naturalmente ha creato malumore tra i residenti ieri è stato dato il via al cantiere nessuno ci ha avvisato hanno detto appunto i residenti ne ha voluto ascoltarci su come conciliare le varie esigenze sia quelle dei lavori che quelle appunto di coloro che abitano su questa strada e intanto il bus navetta è stato costretto a lasciare i bambini che tornavano da scuola non certo nei punti giusti ma lontano dei luoghi di residenza e questo naturalmente ha creato delle proteste cittadella del basket ecco il titolo richiamato in prima pagina ci siamo ma c'è il nodo dei parcheggi pochi ebbene la cittadella del basket dovrebbe prendere il posto della piscina di via Togliatti e quindi quest'ultima dovrebbe essere trasformata in una cittadella di sport dedicata appunto al cestismo il rischio però è che i parcheggi non siano sufficienti e questo potrebbe creare non pochi problemi ai residenti che vedrebbero tutte le loro vie intasate da macchine che non trovano posto nelle aree del parcheggio vicino appunto alla struttura sportiva ed ora parliamo anche di alberghi in vista della prossima stagione il cruiser riaprirà a inizio giugno intanto parte l'avventura del botaniche l'hotel acquistato dalla famiglia Filippetti il secondo più grande della città dovrebbe farcela per l'estate domani inaugura il nuovo locale che prende il posto del dox si va dalla colazione fino agli aperitivi dunque c'è un'iniziativa c'è fermento per quanto riguarda la ricezione alberghiera nel Pesaro ovviamente in previsione anche del capitale della cultura del 2024 che dovrebbe attirare molti molti turisti nella città di Pesaro tanto da coinvolgere anche strutture alberghiere di altre località Fano Mondolfo Marotta insomma altre località spese di rappresentanza per i consiglieri comunali e la giunta di Pesaro da monaci tibetani il comune ha pubblicato per legge rimborsi effettuati dalla ragioneria per le trasferte che i consiglieri hanno attuato nel 2022 si tratta di assessori e consiglieri comunali e ci sono anche delle sorprese ma non sono cifre eclatanti prendiamo per esempio la consigliera di opposizione Giulia Marchionni il 10 11 12 13 ottobre scorso è stata delegata a partecipare ad un congresso a Bruxelles su Young Elected Politians in altre parole sui giovani eletti in politica al ritorno ha presentato la lista dei spese con appunto i documenti giustificativi e vediamo quanto ha speso dunque il Vito ha comportato la spesa di 101 euro per 4 giorni 4 giorni il pernotamento è costato 96 euro e 85 centesimi compresa la tassa di soggiorno il Vito ha comportato appunto 101 il trasporto 10,40 il parcheggio dell'aeroporto di Ancona 50 euro per un totale di 259 euro e 15 centesimi apparentemente non c'è il costo del biglietto aereo che forse gli è stato dato gratis e poi ci sono anche le spese che ha sostenuto l'assessore Mila della Dora l'assessore Riccardo Pozzi insomma c'è un po' una summa dei conti per quanto riguarda queste trasferte e intanto l'Oscar del risparmio è stato dato al Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini che ha speso la cifra più piccola possibile 1,91 euro non so a che cosa è servita questa cifra ma ha avuto un rimborso di 1,91 euro il parcheggio della stazione si va verso l'esproprio la società proprietaria dice non siamo contrari a questa forma di acquisizione il Comune ha affidato ora l'incarico per i rilievi geologici su tutta l'area un'area di sosta preziosa questa vicino alla stazione ferroviaria di Pesaro perché quando si arriva veramente non si sa dove mettere la macchina e secondo le stime effettuate in passato l'ente comunale dovrà pagare l'area non meno di 515.000 euro un'area piuttosto preziosa diciamo così vediamo anche un cambiamento per quanto riguarda i paesi che sono un po' nell'entroterra che avranno un servizio in più carte d'identità passaporti ISE presto si potrà fare tutto alle poste presentato il progetto Polis che riguarderà 48 comuni della provincia con meno di 15.000 abitanti una rivoluzione questo per i piccoli centri i cui cittadini non avranno più bisogno di raggiungere il capoluogo per fare una carta d'identità fare un passaporto oppure calcolare l'ISE appunto del proprio diciamo così di quello che hanno guadagnato e dei loro beni posseduti per ricevere magari dei contributi per ricevere dei sostegni da parte dello Stato ad oggi sono pronti 40 uffici i cantieri aperti sono 230 entro l'anno sarà avviata la ristrutturazione di 1500 locali per offrire questi nuovi servizi apriamo anche il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che l'apertura è dedicata all'abbattimento delle barriere architettoniche nei giorni scorsi è stato il Movimento 5 Stelle a sollevare questo problema del ritardo della redazione del PEBA ovvero del piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche che è in fase di redazione da molto tempo e che sembra non giungere mai alla redazione definitiva però qualcosa si sta accelerando grazie appunto all'impegno dell'assessore Barbara Brunori via le barriere in tandem con Pesaro Politecnica al lavoro giovani coinvolti vediamo cosa significa questo articolo via le barriere in tandem con Pesaro sì perché l'amministrazione comunale di Fano ha assunto una collaborazione con l'amministrazione comunale di Pesaro per individuare subito le linee guida che dovrebbero corredare appunto il piano contro le barriere architettoniche di eliminazione delle barriere architettoniche una collaborazione importante che vede anche l'ingresso del Politecnico delle Marche a cui punto dovrà essere affidato con le linee che seguiranno la redazione stessa del piano un impegno importante un'accelerazione alla realizzazione di questo strumento molto molto atteso perché non sono solo i disabili coloro che vanno in carrozzella che hanno difficoltà poi a deambulare ci sono anche molti anziani la popolazione di Fano invecchia come tante altre popolazioni in tutte le Marche e la deambulazione specialmente se si trovano strade sconnesse marciapiedi troppo alti scalini invalicabili diventa sempre più difficili il primo passo che si appresta a fare l'amministrazione comunale e la nomina del garante per la disabilità figura che Pesaro ha già avuto ha già nominato e poi il comune cercherà di no cercherà ha già dato disposizione di realizzare i nuovi progetti come l'arredo di piazza Marcolini oppure di piazza Andrea Costa oppure l'exagip senza alcuna barriera architettonica quindi quello che si fa d'ora in avanti avrà molta molta attenzione alla posizione dei disabili non ci saranno scalini non ci saranno problemi per passare per deambulare e quindi niente più barriere architettoniche giriamo la pagina e vediamo un articolo di cronaca presi dopo il furto da Kingsport ma l'arresto non è convalidato una pattuglia del commissariato aveva bloccato l'auto con due giovani in fuga avevano fatto un furto sono tornati però in libertà due giovani italiani bloccati sabato scorso dalla polizia dopo un breve inseguimento in automobili davanti al negozio Kingsport in via in Audi nella zona commerciale di Bellocchi ieri avrebbe dovuto svolgersi l'udienza in tribunale a Pesaro ma per questioni di carattere formale insomma quelli appigli che poi tra gli avvocati si disputano l'uno con l'altro ebbene l'autorità giudiziaria non ha proceduto alla convalida degli arresti per furto e quindi sono in libertà si sa benissimo che cosa hanno fatto però nessuna pena a loro viene combinata al momento ed ora vediamo ancora un articolo che riguarda le linee dei bus la tratta non era un ramo secco chiusura utile alle linee dei bus la fa anurbino è sempre oggetto di attenzione da parte dell'associazione ferrovie Valmetauro che ricorda il traffico passeggeri 700 al giorno ebbene anche qui c'è un appuntamento c'è un ricordo un anniversario il 31 gennaio del 1987 l'ultimo convoglio raggiunse il capoluogo feltresco partendo da Fano Fano Urbino era il giorno della soppressione della ferrovia e l'associazione Ferrovia Valmetauro la ricorda con tanta passione e tanto rimpianto questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera su Occhio alla Notizia il TG di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci